Si sono cimentati nei 100 metri piani e nel lancio del Vortex stamattina allo Stadio Barbetti. Ieri avevano iniziato al Teatro Romano con la corsa campestre e nel pomeriggio il rugby. Domani scarpini ai piedi per un torneo di calcio agli impianti sportivi di Fontanelle. Sabato alle 14.30 tutti sotto rete alla polivalente per disputare una partita di volley. Sono gli studenti dell'Istituto Mastro Giorgio Nelli che su iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gubbio, sostenuti dal Comune, hanno dato vita alle Olimpiadi dei Ragazzi che iniziate ieri pomeriggio proseguiranno fino a sabato. Giovanni tu sei il sindaco di questi ragazzi. Allora, questa giornata, quanto è importante per voi? Vi siete divertiti, vi state divertendo? Sì, ci stiamo divertendo abbastanza, molto. Poi questo progetto l'abbiamo cominciato dal sindaco addirittura prima e volevamo metterlo in pratica perché comunque si era un progetto che era bello. Cioè, la giornata è bella e adesso... Vi divertite? Sì, sì. Quanti ragazzi fanno sport? Tanti, pochi? Della età nostra tanti, ma poi è una cosa anche bella fare sport perché comunque si impari delle cose nuove e poi facendo queste Olimpiadi fai anche degli sport nuovi, quindi hai più tecnica. Il tuo sport preferito? Calcio. Un sogno da grande? Giocare a calcio con una squadra è importante, ma... Tifi Gubbio? Sì, tipo. E il retrocesso? Eh, vabbè, il prossimo anno speriamo di ritornare in Serie C. Rinascono i giochi della gioventù a Gubbio. Perché questa iniziativa è fortemente voluta da Comune e CCR? Sì, il perché è molto semplice, perché bisogna dare un segnale di ripresa e di proposta di attività buone e positive per i giovani a livello sportivo, ma soprattutto a livello educativo e aggregativo. Ripartire con queste Olimpiadi del Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze è fondamentale, secondo me, dal punto di vista del messaggio che si vuole dare come città e come assessorato e come amministrazione affinché la proposta sia quella di proposte belle e positive per i ragazzi, che devono affacciarsi allo sport innanzitutto come veicolo educativo di crescita e di integrazione, capendo che lo sforzo e il sacrificio che sta dietro le discipline sportive e tutte le varie manifestazioni che incontreranno nella vita è importante se affrontato con questo obiettivo, tenendo presente che la possibilità di affrontare lo sport dal punto di vista professionistico ha dei numeri statistici comunque sia che sono veramente avari, ma lo sport non è precluso per nessuno. Oggi l'esempio chiaro è questa giornata di atletica fatta insieme ai ragazzi del Comitato Italiano Paralimpico, i ragazzi dell'Associazione Camelot e KT. Per l'appunto noi vogliamo parlare ai giovani anche alimentando lo sport, tanto che domani sarà l'occasione di una giornata formativa nella quale i sportivi professionisti della città, tre sportivi abbiamo scelto, incontreranno i ragazzi per parlare a loro veramente di che cos'è lo sport e di come possiamo alimentare veramente lo sport con i giusti valori che vogliamo trasmettere, ma che molte volte sono i ragazzi stessi che ci suggeriscono. Non sempre però lo sport e le cronache attuali, lo dicono, trasmette purtroppo valori positivi, non solo tra i professionisti, pensiamo al calcio scommesse anche nelle serie non professionistiche. Allora come si combattono queste, come dire, piaghe dello sport? Allora innanzitutto secondo me è una scommessa andare contro queste piaghe, è una scommessa importante che va combattuta dalla famiglia innanzitutto, dalla scuola, ma soprattutto dalle società sportive, professionistiche o non, che devono veramente suggerire e far vedere ai ragazzi esempi positivi degli sportivi che sono riusciti attraverso il sacrificio e attraverso la dedizione gratuita appunto in tutti questi anni, negli anni di sport che hanno dedicato. Lo sport è questo secondo me, è educativo, lo sport nasce dal prato, dal vicolo, dal divertimento, dal gioco per poi poter calcare campi così e sarebbe un sogno per tutti, noi tutti abbiamo sognato il San Biagio, adesso il Barbetti con dei scarpini neri puliti, con un bel pallone, ma è un sogno per pochi, raggiungibile per molti comunque attraverso i giusti canali educativi che lo sport suggerisce. Un'ultima battuta con lei che è assessora allo sport e la facciamo sulla principale squadra che oggi Gubbio ha, la Gubbio Calcio. Una delusione, la retrocessione, forse la speranza di un ripescaggio, chissà che messaggio si sente di lanciare. Forte emozione innanzitutto, negativo per quanto riguarda la situazione gravosa nella quale l'ottima società Gubbio Calcio si è trovata. Un messaggio è soprattutto ai appassionati diretti che seguono il calcio veramente cuore a cuore, che sono la seconda maglia, la maglia della salute che i calciatori mettono sotto, di non abbandonare la società, di non abbandonare prima di tutto la città, sperando veramente di poter recuperare la situazione perché Gubbio, l'ha dimostrato, merita di calcare quelle platee veramente regali che danno onore a questa città. Gubbio Calcio